Si faranno gli interventi annunciati dall'amministrazione Masci o non si faranno? I 100 milioni di euro di lavori pubblici troveranno concretezza nei progetti che sono stati sottoposti al valio delle procedure previste dal PNRR? Queste le domande che ricorrono dopo il caso Trisi, l'ex dirigente lavori pubblici del Comune, finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta per un presunto giro di droghe e mazzette all'interno dell'ente. Intanto una considerazione di tutti i fondi che l'amministrazione ha beneficiato a favore della nostra comunità per il piano nazionale di ripresa e resilienza, quei fondi sono a disposizione della città e quindi non c'è nessun rallentamento, nessuna sospensione e quei fondi si trasformeranno in opere pubbliche essenziali, importanti, apprezzate dalla città di Pescara e non soltanto dalla città di Pescara. È uscita qualche criticità sui lavori dello Svincola Trombetta, di che cosa si tratta? Tra l'altro lavori annunciati per un importo di 6 milioni e 800 mila euro un mese e mezzo fa. Esattamente, stiamo parlando di uno dei lavori più importanti nell'ambito di questi 100 milioni, quasi 7 milioni di euro, che andranno a cambiare il volto dell'ingresso di Pescara e di Pescara Sud. C'era una questione procedurale che è stata attenzionata dai dirigenti, ma che è marginale rispetto ai lavori di per sé, nel senso che la giudicazione dell'opera è stata effettuata in maniera regolare, per cui l'impresa sta già lavorando al progetto esecutivo. C'era una questione da risolvere rispetto alla direzione lavori, su una procedura che era stata intrapresa e non era stata neppure conclusa. Per prudenza, anche in considerazione del nuovo codice degli appalti entrato in vigore il 1 luglio, il dirigente ha ritenuto in autotutela di annullare quella gara che era assolutamente in corso e quindi neppure conclusa e seguire un iter diverso. Quello che è in corso in questo momento è un iter relativo invece all'affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, ma che non va a inficiare minimamente il cronoprogramma dei lavori, perché in questa fase ancora non interviene direttamente la figura del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, perché siamo nella fase della progettazione.